La Guardia di Finanza di Tortona ha scoperto un'evasione fiscale di oltre 50 milioni di euro messa a segno da una società di capitali tortonese operante nel settore del commercio di autovetture. Denunciati all'autorità giudiziaria i due responsabili nella loro qualità di soci e amministratori per non avere presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA. Dietro all'apparenza infatti di una impresa seria, molto attiva sul mercato, con un fattorato di più di 22 milioni di euro, diversi migliaia di autovetture vendute in Italia e all'estero, una sede legale in centro città a Tortona e personale dipendente regolarmente assunto, si nascondeva, secondo la Guardia di Finanza, una società delle scritture contabili falsate e inattendibili. Le tasse e le imposte non venivano sistematicamente versate, riuscendo in tal modo ad essere più competitiva sul mercato e consentendo ai due proprietari di accumulare ricchezze illecite. L'elevato tenore di vita dei due amministratori, peraltro ostentato anche attraverso il possesso di auto di grossa cilindrata, shopping sfrenato in boutique di lusso, vacanze costosissime, non è sfuggito ai militari delle Fiamme Gialle, che hanno avviato tutti i riscontri ed accertamenti del caso, anche con la collaborazione di organismi comunitari, grazie ai quali sono emerse tutte le operazioni commerciali effettuate dalla società. Acquistando le autovetture, la società da una parte non pagava l'IVA ai propri fornitori, dichiarando falsamente di essere un esportatore abituale, condizione questa che consente di acquistare senza l'applicazione dell'imposta, d'altra parte però, all'atto della rivendita delle auto, riscuoteva l'IVA dei propri clienti nazionali, senza ovviamente versarla allo Stato. Questo sistema consentiva all'impresa di proporsi sul mercato a prezzi certamente più convenienti, cioè dal 5 al 19% in meno rispetto ai prezzi di mercato, ed imporsi in questo modo sui concorrenti onesti. A garanzia del credito erariale, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tortona ha disposto nei confronti dei responsabili un sequestro preventivo di diversi conti correnti, titoli azionari ed immobili, per l'equivalente di quasi 8 milioni di euro.